Siamo al Proving Ground di Balocco con la nuova quattroporte Maserati e siamo qui a testare notturne, quindi vettura senza camuffature, una serie di particolari come la velocità massima delle prestazioni della vettura e le rombosità allo scarico. La vettura è completamente nuova sotto ogni punto di vista, è una vettura con un nuovo motopropulsore, nuove sospensioni, nuova linea sterzo, naturalmente un nuovo design e un nuovo interno. La vettura rispetto alla quattroporte attuale ha un passo maggiore e una carreggiata maggiore, quindi l'abitabilità interna è migliore e anche come prestazione in motore siamo superiori rispetto alla gamma attuale quattroporte. La futura quattroporte non avrà i montanti porte, quindi stiamo verificando i frusci aerodinamici con cristalli che si appoggiano unicamente sulla guarnizione e non rientrano quindi nel montante.